Un buon pomeriggio dalla redazione di Florence Multimedia in studio Nicola Giannattasio. Fare attenzione per pioggia su tutta la rete stradale ed autostradale della regione toscana guidate con prudenza. Sulla FIPILI ci sono code in uscita all'Astra Assigna in direzione mare per viabilità esterna che non riceve. Per lavori di manutenzione al viadotto del Turbone possibili disagi in entrambe le direzioni tra Ginestra Fiorentina e Montelupo Fiorentino. Su raccordo Siena-Firenze per scambio di carreggiata dovuta a lavori. Rallentamenti in entrambe le direzioni tra Tavarnelle e San Donato. La statale 330 è chiusa in località Albiano Magra nel comune di Aulla a causa del crollo del ponte sul fiume Magra. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio! Grazie a tutti. Grazie.